Ciao, passiamo al massaggio per il collo. Ok, partiamo con la respirazione mano destra sulla mano sinistra. Sempre 5 per 5. Portiamo le mani verso il basso e la testa verso l'alto. 4 5 Mano destra, andiamo a prendere la parte sinistra del viso e andiamo verso la parte, la spalla destra. Quindi con la mano sinistra poggiamola sulla spalla sinistra e andiamo verso il basso. Quindi facciamo una contrapposizione. 1 E stiamo 5 secondi. 1 2 3 4 5 Lo facciamo per 5 volte. 1 2 3 4 5 Ripetiamo. 1 2 3 4 5 1 5 2 3 4 5 Andiamo dall'altra parte. Mano opposta. 1 2 3 4 5 5 Questo è ottimo. Questo è ottimo. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L'ultimo. 5 1 2 3 4 5 5 Adesso sciogliamo le contratture delle spalle. Mani alternate, sempre per 5 volte. 1 2 2 2 2 3 4 5 E ricominciamo. 1 2 3 4 5 5 Andiamo proprio a prendere tutta la parte del trapezzo. 2 3 4 5 Si può fare anche sugli indumenti, se invece preferite, una goccina di olio. Si può fare ugualmente. 3 4 5 L'ultimo. 1 2 3 4 5 Lo stesso dall'altro lato. 1 2 3 4 E 5 In giro, vi faccio vedere meglio. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 E 5 Ottimo questo anche per la cervicale. 3 4 E 5 Il collo sorregge tutto il viso. 2 3 4 5 1 2 3 4 E 5 Perfetto. Torniamo dritta. E facciamo un semicerchio. Mani sempre sul petto, sullo sterno. Destra sulla sinistra. Dal basso. 1 2 1 2 3 Lento. Respira. 4 5 5 Apri le spalle. Apri gli occhi. Adesso lavoriamo sulle rughette del collo. Questo è un pochino più complicato. Pollice e indice. E' un po' più avanzato. Vai a prendere proprio le tue rughe. 1 2 Lo facciamo 5 volte. 3 Meglio senza olio in questo caso. 4 E 5 Passiamo avanti. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 E 5 Ricominciamo. Base del collo. 1 2 Se fa male va bene. 3 4 E 5 1 2 3 4 E 5 1 2 3 4 E 5 1 2 3 4 5 1 2 3 3 4 E 5 L'ultima volta. 1 2 3 4 E 5 1 2 3 4 E 5 1 2 3 3 4 E 5 Cambiamo la zona. 1 Tra l'altra parte. 3 4 E 5 1 2 3 4 E 5 1 2 3 4 4 E 5 1 2 3 4 E 5 1 2 3 4 E 5 1 2 3 4 E 5 1 2 3 4 2 3 4 E 5 1 2 3 3 4 E 5 Adesso un bel respiro E facciamo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 E 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 E 5 Ultima volta. 1 2 3 4 E 5 1 2 3 4 E 5 Un bel respiro. Ultiamo fuori. E grazie. Iniziamo con il massaggio delle clavicole. Sempre 5 per 5. Le clavicole collegano tutto il muscolo del platisma, quindi del collo, molto importanti per lo male del viso. Perché se questi muscoli non sono più tonici come un tempo, anche l'ovale del viso perderà la sua tonicità. Quindi, con le dita in questo modo, andiamo proprio a metterle all'interno delle graticole e con un bel respiro tiriamo su e poi quando buttiamo fuori l'aria spingiamo all'interno. Lo facciamo per cinque volte. Lo facciamo per cinque volte. 4 1 1 2 3 3 5 5 Lo rifacciamo. 1 2 Premi. Premi, quattro e cinque. L'ultima volta. Quattro, vedrai che se all'inizio era un po' più teso, adesso si è sciolto anche all'interno della calvicola. Cinque, scorre meglio. Ti faccio vedere un esercizio nuovo. Disegniamo la calvicola. Uno, lo facciamo cinque volte al lato. Due, tre, quattro e cinque. E di qua. Uno, due, tre, quattro e cinque. Perfetto. Vediamo per altre tre volte. Uno, due, tre.